Ciao a tutti, cosa abbiamo pensato Elias? Un blues di Charlie Parker che si chiama Blundido e niente, io lo suonerei più che parlarne tanto ascoltiamoci sto blues di Charlie Parker, io chiedo ad Antonio di abbassare completamente la base di spegnere anche il microfono, lo sure che serve per cantare e lasciare soltanto lo stretto indispensabile per questo nostro trio live in the studio e lasciare soltanto lo stretto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.